Gioia Sport, il blog con tutto lo sport della tua città. Gioiasport.com Siamo con Davide Cassaro, nuovo difensore centrale della Gioiese, reduce della splendida vittoria col Montalto. Cassaro, che cos'è che ti ha spinto ad accettare il progetto della nuova Gioiese? Innanzitutto ho conosciuto delle persone abbastanza serie e competenti. Poi mi hanno proposto il loro progetto, l'ho valutato e ho visto che è un progetto abbastanza serio, già di come si stanno muovendo sul mercato e quindi ho preferito accettare la loro causa. Tra i vari acquisti della nuova Gioiese, a parte te naturalmente, qual è quello che ti ha colpito di più? No, ma si stanno muovendo bene sul mercato. Un po' conosco un po' a tutti gli acquisti e quelli che sono rimasti, le persone che hanno riconfermato. Non ce n'è uno in particolare, sono tutte persone abbastanza valide, messi in un gruppo. Si doveva cercare di fare bene, un campionato abbastanza dignitoso. Sicuramente conoscevi Mario Spasco, che è stato tuo compagno di squadra? Sì, conosco pure Tavernite, abbiamo giocato insieme a Bagalati. Ma ti ripeto, con loro magari ci ho giocato e li conosco meglio, però conosco un po' tutti gli altri. Descriviti a chi non ti conosce, quei pochi che non ti conoscono, quali sono le tue caratteristiche principali? Mi descrivono come uno duro, uno abbastanza possente, perché per il fisico, però ci adattiamo a tutte le occasioni. Un difensore che comunque si fa sentire anche in zona gol, visto che sei una delle bestie nere della Nuova Gioiese. Hai fatto gol col Bagalati, hai fatto gol col Montalto. Almeno quest'anno subiremo due gol in meno da parte tua. Ogni giocatore ha il suo portafortuna come squadra ogni anno, il mio negli ultimi anni è stato la Gioiese. Mi auguro di poter fare qualche gol pure quest'anno. Allora ci auguriamo tutti quanti che riusciate a portarvi fortuna a vicenda, tu alla Nuova Gioiese e alla Nuova Gioiese a te. Questo è l'ospice e l'augurio che ci facciamo tutti.